In questo tutorial vedremo come bloccare la barra degli strumenti di zoom. Di quale barra stiamo parlando lo scopriremo subito. Come sempre recatevi su zoom, effettuate l'accesso e individuate l'impostazione che ci interessa nella scheda impostazioni. Osservate questo comando. Mostra sempre la barra degli strumenti di controllo della riunione. In questo caso è attivata, però voglio farvi notare una cosa. Innanzitutto di quale barra stiamo parlando? Stiamo parlando di questa barra degli strumenti qua sotto. Osservate appena mi sono spostato questa è scomparsa. Appena mi riposiziono con il mouse sulla schermata di zoom questa ricompare. Quindi in sostanza il comando è attivato dal sito però non sta funzionando. Questo perché? Perché bisogna intervenire sulle impostazioni del client. Nelle impostazioni intendo qui c'è questo comando mostra sempre i controlli riunione. Se ci soffermiamo sul punto interrogativo dice è inoltre possibile utilizzare il tasto alt per mostrare o nascondere i comandi della riunione. Allora proviamo a fare prima questo. Adesso mi sposto, premo alt. Ha funzionato. Mi risposto. Perfetto. La barra rimane in sovrimpressione. Appena la voglio nascondere ripremo alt. Questo non toglie che posso decidere di mostrarla sempre. Basta spuntare questo comando. Mostra sempre i controlli riunione dalla scheda generale appunto. Ecco ora sto provando a premere alt ma non accade nulla. Proprio perché abbiamo attivato questo comando. Proprio perché abbiamo attivato questo comando.